Grande successo di pubblico per l'ottava edizione della Montegridolfo Liberata, manifestazione storico-rievocativa e culturale che per l'ottavo anno si è svolta a Montegridolfo, caratteristico e storico comune della provincia di Rimini, che grazie all'eroica operazione del tenente sudafricano Gerard Norton, nell'agosto del 1944, è stata liberata dall'occupazione tedesca. L'associazione dei Green Liners, che ha partecipato fattivamente alla manifestazione, con la presenza di ben oltre 70 friguranti provenienti dal centro Italia, tra cui Marche, Umbria, Toscana, nonché Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, in perfetta divisa militare, inglese, tedesca e canadese, hanno contribuito notevolmente allo svolgimento della battaglia nella giornata di sabato, con l'assalto al crinale di Montegridolfo e per la giornata di domenica alla liberazione del borgo con la conseguente espulsione dal castello delle milizie tedesche. Grande anche la partecipazione di pubblico nel corso delle tre giornate, con la presenza di oltre 3.000 persone. La manifestazione è stata resa possibile grazie all'amministrazione comunale, alla proloco e all'associazione storico-rievocativa The Green Liners.